La blogger Rick ha un sacco di fan che cercano la sua attenzione! Avrà i miei poster, non preoccuparti! Wow, è Alice! Sta facendo un incontro con i fan! Mi piacerebbe avere il suo autografo! I miei amici saranno gelosi di me! Ragazzi, facciamo un selfie, venite qui! Ogni fan sogna di avere una foto con il suo idolo! No, non puoi mostrare queste foto a nessuno! Questo dovrebbe aiutare! L'angolazione è molto importante! Ora sembra molto meglio! Cerca la posa migliore! Mentre la blogger Rick raccoglie folle di fan, quella povera può solo fingere di essere così tanto famosa! Puoi guardare qui, per favore? E levati! Oh, va bene, ho un'idea! Uno spazzolone non è peggio di un bastone da selfie! Che stai facendo? Non ti lascerò sfruttare la fama di Alice? No, hai sbagliato tutto! Il mio telefono è lì dentro! Lo posterò sicuramente nelle mie storie! Miei cari follower, oggi abbiamo un evento molto importante! Io e voi abbiamo viaggiato per tutto il mondo e oggi cancellerò l'ultimo punto di questa mappa da grattare! La nostra prossima fermata è la luna! Siete pronti a vederla? Accendi! Ciao ragazzi! Oggi vi darò una lezione di sopravvivenza! La prima cosa che dovete fare è andare a prendere l'acqua! Oh no! L'acqua è finita! Non preoccupatevi, ci sono molti modi diversi per prenderla! Ne proveremo uno! Facciamo un pozzo! Questo dispositivo ci aiuterà! Iniziamo! Forse i vicini hanno iniziato una ristrutturazione? L'acqua potabile ha 8-10 metri di profondità! Che sta succedendo? Oh mio Dio! Oh! Ciao! Sto cercando l'acqua! Puoi avere questo? Grazie! Visto! Ce l'abbiamo fatta! Mai arrendersi! Che strano! Qual è il problema? La connessione wifi è così lenta qui! Non riuscirò a fare bene il mio blog sul viaggio! Perché fa così freddo? La ricca blogger ha un'intera troupe che si occupa di lei! Alice! Andiamo in diretta! Ciao amici! Oggi gireremo la sfida Gli abbonati sceglieranno che cosa bevo! Scrivete nei commenti qui sotto quale caffè volete che provi e io lo farò! Oh nonnina! Guarda qui! Perché sei al posto mio? Saluta i miei iscritti! Non mi rompere! E diamo un'altra occhiata! Tu hai scelto l'ultima opzione e io la provo! Oh no! La nonna deve averla lasciata sul tavolo ma non posso ignorare il desiderio dei miei abbonati! Spegni la telecamera ora! Ho bisogno di usare il bagno! Va bene! Anche la povera blogger ha iniziato una sfida! Ciao gattini! La sfida di oggi sarà molto eccitante! Assaggerò il caffè degli altri! Vi darò tre opzioni e il vostro compito è quello di indovinare che tipo di caffè ho preso! Cominciamo! Pesce grande, pesce piccolo! Forza! Dimmi di più fratello! Wow! È così vicino! Sì! Non va bene! È il mio caffè! Allora, sono riuscita a prendere questa tazza di caffè! È americano! Ehi! Sto parlando con te! Grazie per aver partecipato alla mia sfida! Torna indietro! Ciao a tutti! Siate sul canale di Alice e oggi testeremo i cosmetici delle marche di lusso! Mi chiedo, cosa c'è dentro questa borsa? Una piccola grattugia! Questo è interessante! Guarda com'è lucida! Sta comodamente in mano e può sostituire la spazzola per la pulizia! Vediamo cos'altro abbiamo qui! Uh! Questa è una miniatura di un lingotto d'oro che è grande sistema per la cura della pelle! Ma di cosa sto parlando? Alice, segui solo il copione ma non ha senso! Come si può grattugiare l'oro? Prova e basta! Ok, sono pronta! Guardate questo magico dispositivo di bellezza! Questi sono cosmetici per vere star! Perché sto facendo un lavoro così faticoso? Oh! Oh! Sembra buono! Con questa splendida polvere la tua bellezza sarà visibile dalla luna! Come dire, sottoscrivetevi! Baci! Finalmente! Voglio lavarmi! Ho davvero bisogno di fare un po' di stretching! Dai un'occhiata a queste carte! Non ora! Sono così stanca! La blogger povera ha ricevuto un'offerta promozionale! Mi chiedo cosa c'è qui dentro! Sembra una crema! No, puzza! Per fortuna i miei follower non possono sentirne l'odore attraverso la telecamera ma la tariffa non è male! Va bene! Darà una possibilità a questo prodotto! La blogger povera non è schizzinosa in termini di pubblicità! Cominciamo! Ciao, mie gattine! Oggi sto testando questa crema naturale per il viso! Ha un profumo fantastico! Applicala sulla pelle con uno strato sottile! Aspetta due minuti per farla assorbire! Miau! Ecco il risultato! Sì! Avete indovinato! Il Fard o Lover per il viso è una nuova tendenza! Ciao, tesori! La mia faccia sembra una barbabietola! Ho bisogno di lavarla al più presto? Vende conchiglie in riva al mare! Ciao, amici! Non ci credo! Oh! Ho appena raggiunto un milione di follower! Butler! Guarda chi c'è! Sono così felice di questi numeri! Quale blogger vorresti seguire? Quella ricca! Oppure quella povera? Quella povera! Dai, giralo! Oh! È il mio bottone d'oro! La ricca blogger riceve premi molto costosi! Appendilo in un posto visibile! Che gioco noioso! Che gioco noioso! Quanto manca alla fine! Il pulsante d'oro di YouTube è una prova innegabile del tuo successo! Non ci credo! Perché non ne ho avuto uno? È questo il supporto di YouTube! Dov'è il mio pulsante? Qual è il nome del tuo canale? È Mia Muse! Va bene! Ho accettato la tua richiesta! Grazie! Avresti dovuto farlo subito! Vado incontro al fattorino! Sono sicura che arriverà da un momento all'altro! Eccoti qui! Ti stavo aspettando! Guarda quanti abbonati che ho! Congratulazioni! Ecco a te! Sììì! Il mio canale ha un pulsante ora! Ho così tanto successo! Non posso crederci! Devo fare una foto! Oh no! Qualcuno ha appena tolto la sottoscrizione! Perché? Credo che questo non ti serva più! No! Oggi non è il mio giorno fortunato! È tutto pronto? Possiamo iniziare! Ciao a tutti! Alice è qui! E oggi faremo un crash test su questi due smartphone! Scopriamo quanto saranno in grado di reggere questi piccolini! E se valgono davvero tutti i soldi! Per la ricca blogger, spaccare i telefoni costosi è molto divertente! Sììì! L'ho disintegrato completamente! Ti è piaciuto? La prossima volta faremo un crash test su questo portatile! Ci vediamo! Wow! Non credevo fosse così divertente! Sì, lo è! La blogger povera non vuole distruggere i suoi gadget perché ha lavorato duramente per poterli comprare! Oh! È lo smartphone di Josh! Potrebbe funzionare! Ciao gattini! Oggi faremo un crash test sullo smartphone del mio amico! Vediamo quanto è forte! Non preoccuparti, Josh! Starò attenta! Va bene, mi fido di te! Oh! Le crepe sembrano ragnatele! Lo schermo non potrebbe sopportare nemmeno leggeri colpi di martello! Vediamo se questo è impermeabile! Come va, Mia? Oh no! Credo che il mio smartphone possa essere sepolto! Ma per quale ragione l'hai ridotto così? Lo asciugo io? Ecco a te! Non l'hai asciugato! Ora è cenere! Ti è piaciuto il video? Allora metti un like, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella! A presto! Allora metti un po'